Ok, allora benvenuti, quindi siamo a quello che sarà, diciamo, l'ultimo incontro di questa sessione. In realtà il corso non è finito, adesso lo vediamo un po' meglio adesso, ma pensavo di sospenderlo in quanto adesso, cioè non è che sia sospeso, in realtà andiamo avanti esplorando una cosa in particolare a cui tengo molto e che è molto inerente a quello che stiamo lavorando e che è Hoops. Non so se vedete il mio schermo, sullo schermo c'è proprio il calendario di tutte le attività di Edu3D. Vi invito, vediamo un po' chat, ok, perfetto. Allora il calendario di tutte le attività, come vedete Edu3D sta cominciando a diventare abbastanza intensa come attività e quindi volevo farvelo, proprio darvi anche la possibilità a voi di avere questo calendario, di vederlo. Il calendario è un calendario di Google a cui si accede con un link abbastanza semplice che è bit.ly barra Edu3D.cal1. Non so se l'abbiamo già detto prima. In questo modo dovrebbe essere abbastanza semplice ricordarsi perché sono tutti i bit.ly, sapete che è un sistema per comprimere le urla. Shortener. Sì. Edu3D, ve lo ricordate tutti. Cal1, ho dovuto chiamarlo Cal1 perché il cal era andato male e quindi ho dovuto farlo un altro. Perché una volta che si fa una short così poi si perde. Quindi per quello che vi trovate Cal1. Comunque facendo così vedete il calendario nel formalismo qui fatto così. Che però è possibile vederlo anche per mese e quindi vedere tutti gli appuntamenti per mese. E volevo solo farvi una breve carrellata insomma degli, quindi facciamo un po' di housekeeping insomma del gruppo, ma credo che vi interessino, se non tutti, comunque diversi di questi appuntamenti dove possono essere interessanti per molti di voi. In particolare vuole, allora da oggi, oggi è il nostro corso che è chiamato Oculus B. Per chi è interessato, probabilmente sta già seguendo, abbiamo anche dei corsi fatti da un volontario su Altspace VR e il 10 c'è il Giardino Segreto, è un corso con numero di partecipanti limitato, quindi bisogna effettivamente poi contattare lui per vedere se si può partecipare. Perché è una persona che si chiama Samos, il mio nick è Samos, o Samo, non mi ricordo del più. Fab su Facebook è Samo su Altspace. Si chiama Fab, sì, sarebbe Fabrizio, è una persona molto molto disponibile, esperta in Altspace VR. Sapete che noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto in altri mondi che non sono solo OpenSIM, che non sono solo Unity o altre cose. Altspace VR è un mondo in cui questo amico, insomma, sta facendo questi corsi. Ha fatto un corso la domenica, di solito lo fa, la domenica verso le 9 di sera, se non ho derratto, no? E questa domenica è sul Giardino Segreto. Poi, in più, stiamo parlando della settimana prossima, il 13, il 14 e il 15, segnatelo, quindi abbiamo degli incontri. Quindi il 13 abbiamo l'inaugurazione del drive-in, dove è un posto fatto in OpenSIM, dove vengono presentate una serie di tutorial in formato video, e dove Michelangelo ha costruito un'ambientazione fatta con delle ottime macchine, come al solito. Insomma, cercando di simulare un po' il drive-in in cui si possono vedere i vari film. Comunque, i film dei tutorial che sono stati fatti dai vari amici. Quindi, se volete, appunto, mercoledì prossimo c'è questo tutorial e c'è questa inaugurazione del drive-in. Giovedì, invece, il 14 abbiamo il viaggio nei mondi virtuali, inizia questo corso che cerca di dar di nuovo l'ABC per chi non ha mai visto OpenSIM e i mondi virtuali, oppure anche per dare qualcosa in più, tipo come vestirsi meglio, insomma, qualcosa anche di più evoluto, anche per chi già li conosce. Quindi, in pratica, i giovedì, quasi tutti i giovedì, quello che vedo, ci sono questi corsi del viaggio nei mondi virtuali. E questa è una classroom. E poi, invece, il venerdì, 15, abbiamo un... ripetiamo l'edizione di VR low cost, quella che abbiamo fatto nel Space VR, però la ripresentiamo in Second Life. E' semplicemente una presentazione dei visori di realtà virtuali, insomma, quelli che costano poco. Quindi, Oculus Go, Oculus Quest, o addirittura il Cardboard. E tra l'altro lì, ecco, se qualcuno di voi vuole darmi una mano, io la volta scorsa avevo chiesto a Valeria Sergeni, no, scusa, a Lorena Ragusi, di darmi una testimonianza, e anche a Daniele, se o loro o altri vogliono per caso darmi una mano entrando in Second Life... Wow, in Second Life. Come? Entriamo in Second Life? Sì, se qualcuno di voi vuole venire in Second Life, lì c'è veramente una realtà di persone che si incontrano dal 2007, e lì noi entriamo come ospiti, in pratica, perché io non faccio praticamente niente in Second Life. E questa, tra l'altro, aspetta, se clicchiamo qua, c'è anche un'immaginina, che è questa, che è la locandina dell'incontro. Quindi lo facciamo anche come Edu3D, ma ci sarà anche, praticamente come presentatori, Magic Flute, io e Magic Flute come facilitatori. E Vision, questa roba qua che vedete, è il nome della sim in Second Life, dove viene fatta questa presentazione. Se poi siete interessati, mi chiedete. Ok, poi, altre cose. Dunque, è possibile solo l'incontro? Questo? Suppongo di sì, però devi parlarne un attimo con Michelangelo, con Gigliola, con Eva e con gli altri tutor che stanno organizzando. Anzi, sono già presente, forse possono già anche risponderti qua. Per me, Sere, puoi frequentare quello che ti interessa, non c'è problema. Tanto sai che sono corsi aperti a tutti e forniamo poi un attestato di partecipazione, che non è un vero certificato ministeriale, insomma, non c'è quel vincolo. Ok? Sì, grazie Gigliola. No, volevo soltanto al limite partecipare all'incontro. Come vuoi. Un incontro, perché è quello che forse mi manca, nel senso che ovviamente non sono mai riuscita a capirci molto bene. Ok, ok. Va bene. Tu poi ne parli con Eva. Magari poi nel calendario vediamo di scrivere brevemente l'argomento, così se voi andate sul calendario riuscite anche a capire. Io in Classroom ho già messo tutta l'indicazione del programma. Ah, ok, perfetto. Le prime due lezioni, la prima lezione è proprio solo di avvicinamento e la seconda e la terza sono di moda, la quarta e la quinta sono una di building base, proprio piccole cose, e l'altra di script. Va bene, è la seconda edizione, penso ci vedremo. Comunque c'è sulla Classroom. Grazie. Ah, vediamo un attimo che sta arrivando. C'è Eva che sta arrivando, perfetto. Allora, qui volevo solo dirvi, ecco, allora, il discorso qua su EduVR. Allora, dicevamo che stasera vedremo ancora due cose su Oculus, ma poi, dicevo, sospendiamo perché volevo proprio introdurre hubs, hubs, che è una cosa che, vediamo un po' come si chiama, comunque, mozilla hubs, chiamiamolo così, perché chiamiamolo più o meno l'italiano. Allora, il perché questa cosa mi interessa molto è dovuto al fatto che senza neanche un visore di realtà virtuale, senza niente, basta semplicemente andare in questo sito, hubs, e poi si può creare un ambiente virtuale semplicemente cliccando un tasto. Cioè, io ad esempio qui sono proprio entrato senza niente, cliccando un tasto si entra, si entra in una stanza virtuale, si, vabbè, si devono rispondere a un pochino di domande, e poi automaticamente si è e si viaggia e si incontra n-avatar. Questa cosa qua funziona praticamente con tutte, con tutte le, Eva l'avevo fatta entrare, però mi sa, no? Ho uscita di nuovo. Aspetta, fammi vedere. No, non c'è più nessuno in attesa. Comunque, non so se avete capito la potenza di un mondo virtuale di questo tipo, che assomiglia molto al SpaceVR, ma nel senso che è molto semplice, per chi di voi ha seguito i miei corsi su Low Poly, si renderà capito conto anche del perché, mi sembra interessante, perché come vedete che ci sono queste ambientazioni molto, se volete, approssimative, ma è molto interessante per la scuola, perché intanto si può entrare senza gli alberi, intanto si può entrare praticamente in situazioni controllate perché l'indirizzo è privato, quindi potete fare entrare i ragazzini anche minori di 13 anni, cosa che non si può fare negli altri ambienti, e si può entrare anche con un semplice smartphone, quindi con un cellulare semplicissimo che costa zero, si può entrare con Google Cardboard, si può entrare con Go, si può entrare con un PC, con un Mac, insomma con qualunque cosa si voglia, quindi è una cosa... e si possono fare incontri in più di una persona, al massimo 25 persone, almeno in presenza, e questo è interessantissimo. L'unico problema è che... ah beh, io adesso ho un avatar che sono proprio la mia personcina, quindi nel corso oltretutto vedrete come creare anche un avatar fatto a vostra immagine, quindi ho chiesto a Daniele che è qui presente, se poi sarà anche uno dei tutor che spiegherà un po' di cose su Hubs, comunque lo spieghiamo insieme, perché tutti i corsi che facciamo cerchiamo sempre di farli in maniera cooperativa. Scusate se mi sono trattenuto tanto su questa cosa, però l'idea è quella di fare un tre o quattro lezioncine dedicata a incontri, insomma, dedicate a capire come introdurre Hubs, come farsi un avatar personalizzato, come creare un mondo, poi c'è una lezione dopo, una ogni due settimane l'ho fatto per non creare troppo sovraffollamento, e così via, fino alla creazione del mondo, come importare gli oggetti nel mondo, c'è proprio un sistema abbastanza sofisticato, abbastanza carino per farlo, per tirare giù le cose da Sketchfab, quindi chi di voi ha fatto cose su Sketchfab le può tranquillamente importare senza problemi su Hubs. E poi quando finirà questa intermezzo, riprenderemo Oculus e le altre cose. Dicevo prima, il motivo per cui ho sospeso un attimo Oculus è perché è possibile che in queste settimane possano uscire delle versioni nuove di Unity, nella 2020, con dei meccanismi diversi, migliori per fare delle applicazioni su Oculus. In pratica cambiano, potrebbero cambiare delle cose. E così come anche Google Cardboard, è da novembre che stiamo aspettando che esca la versione nuova del pacchetto di Unity per Cardboard. Speranzosamente, quando poi riprenderemo, potrebbero esserci questi due pacchetti nuovi. Non so se... Solo la domanda, quanti di voi sono interessati? Ah, ok, perfetto. E tra l'altro poi... Adesso poi quando inizieremo le lezioni vera e proprie, perché adesso questa è tutta una piccola, diciamo, presentazione di fondo, vi farò vedere, vi accenderò che in realtà Unity con Oculus è un po' un massacro, nel senso che si possono fare le stesse cose in venti modi diversi. E alcuni di questi funzionano da una parte. Io ho provato a applicare le stesse cose con l'Oculus Quest, ho visto che a volte funziona, a volte non ho. Quindi volevo appunto essere un attimino più tranquillo per potervi spiegare bene. Poi, soprattutto la parte Oculus Quest, su cui almeno ho avuto un attimo di problemi. Quindi questo è tutto sulla parte, insomma, del calendario. Poi, la piccolissima cosa, Google Zoom, che stiamo usando stasera, vediamo di smetterlo. Quindi le prossimi incontri probabilmente li faremo con Google Meet. Google Meet, molti di voi la conoscono già, io la conosco molto poco, perché è diventato gratuito, e quindi usabile da me soltanto da oggi, a tutti gli effetti. E pare che abbia su per giù le stesse potenzialità di Zoom. Chi di voi l'ha usato, più o meno me l'ha confermato. Forse c'è un pochino meno fronzoli. Sì. Zoom è migliore, dicono tutti, però su Zoom c'è stato un po' di maretta. Quindi adesso noi vediamo un attimo come funziona Meet, se siete d'accordo. E poi vediamo, nel caso, o se rimane in Meet, se è sufficiente per i nostri scopi, oppure se tornare a Zoom. Zoom costa, per, diciamo, 100 persone collegate, costa, cioè più che persone collegate, per poter avere una lunghezza di più di 40 minuti, costa sui 18 euro, insomma, al mese, una cosa simile, che non è tantissimo, ma sicuramente non è poco. Quindi il discorso Zoom. Poi, prima ancora di partire, ultimissima cosa che è interessante, importante, molti di voi l'hanno già fatto, volevo solo dirvi, verso la fine dei corsi, noi diciamo, informiamo che c'è la possibilità di fare un contributo a Edu3D, un contributo che si può fare via Paypal, oppure alcuni preferiscono farlo con un bonifico bancario, le somme non sono importanti, non c'è bisogno di una somma enorme, il motivo per cui chiediamo un piccolo contributo non è tanto per essere pagati, ma è solo perché, per tenere vivo il server su cui stiamo girando qua, e tutta una serie di altre attività, c'è di server, di sim, che stiamo facendo insieme a Liku, insomma, viene a costare, nel senso, abbiamo questo server che ci costa diverse centinaia di euro ogni sei mesi. E questo, aspetta, sta arrivando, ah, Eva Cry, che forse è crashata. Quindi, chi di voi vuole, ritiene, insomma, di voler aiutare a sostenere questa cosa, sappia che di solito, appunto, lo usiamo per sostenere le spese del server, gli abbonamenti a servizi, appunto, come Zoom, infatti, per quello che citavo, servizi anche vari, esempio, uso di servizi per fare i certificati, Paypal, se volete fare un versamento su Paypal, c'è il mio, c'è un indirizzo, email, che vi scrivo qua, che è questo, ok, bacchio, chioccio, gmail.com, mentre invece, gli estremi del conto bancario, vi ridò su richiesta. questo quindi per il discorso di donazioni, niente, proviamo a entrare un po', vediamo effettivamente al corso. Tanto, prima di andare al corso, volevo solo chiedervi se avete delle osservazioni, qualcosa prima, sulle cose che vi ho detto, su questa lunga introduzione, se qualcuno... No. Va bene. Allora, il... apro un attimo il... Ok, Lucia diceva se c'era interesse per Hub. Io sì, mi dice, sono contento. Hub lo preferisco al Space VR per lo stesso motivo per cui preferisco OpenSIM Second Life. Nel senso che al Space VR non costa, è gratuito, ma è un prodotto proprietario di Microsoft e anche lì Microsoft aveva anche Minecraft, mentre invece sempre su Minecraft io ultimamente ho preferito MindTest che è una versione open source. Infatti Hub è open source e non per niente è fatto da Mozilla che è quella che fa Firefox. Costruire in Hubs è un pochino meglio che non costruire in Altspace e quindi secondo me dà molte soddisfazioni, però per chi è abituato a lavorare in OpenSIM probabilmente si sentirà un pochino limitato su alcune cose perché gli avatar sono molto più semplici, addirittura gli avatar di default sono insomma è un pochino più rozzo ma il vantaggio enorme di Hubs è che può essere ceduto liberamente in realtà virtuale ed è invece il problema di OpenSIM cioè in OpenSIM è difficilissimo anzi impossibile praticamente anche in Second Life entrare con il visore anche con Google Cardboard Limite per le costruzioni esistono dei limiti ed è il motivo per cui tipicamente c'è il low poly come avete visto dall'esempio che ho fatto vedere prima gli alberelli sono appena accennati ma diciamo che sono limiti abbastanza diciamo ragionevoli nel senso che si possono introdurre costruzioni fino a circa 100 megabyte che sono cioè si possono fare delle cose abbastanza complesse quindi si possono fare edifici si possono fare delle cose complesse non così complesse come mai i visori non entrano su OpenSIM in realtà c'erano dei visori che ho usato dei browser che consentivano di entrare su OpenSIM o in Second Life ma vi assicuro che li ho provati e non la resa è assurda cioè è una cosa che viene voglia di buttare via il visore nel senso che non sono fatti la risposta è molto semplice cioè sia OpenSIM che Second Life non sono progettati per poter essere visti in realtà virtuale punto se ci provate con quei trucchi che vengono usati da questi browser va tutto a scatti a me succedeva che andava a scatti quindi con un computer della madonna che c'ho qua no? quindi c'è un computer che regge tranquillamente tutto il mondo e l'universo giù di lì e in realtà andava a 5 frame per secondo e poi l'altra cosa che a me ha fatto uscire di testa è che mi si incrociavano gli occhi letteralmente perché le immagini si sovrapponevano in maniera completamente sbagliata e il risultato era che mi veniva un mal di testa una nausea che vi raccomando cioè praticamente ho buttato via poi ho letto su internet che alcuni ci erano riusciti ma facendo una serie di regolazioni micidiali che alla fine ci ho provato non ci sono riuscito e comunque ho detto boh ci sarà un motivo per cui nessuno entra in OpenSeam in Second Life e quel motivo ho creduto di averlo capito ok bene tutte le domande specifiche poi su Hubs le potete farmele poi quando inizierà il corso tra parentesi il corso inizierà fra due settimane ma inizieremo a pubblicare del materiale sul gruppo Classroom su Google Classroom quindi se volete potete partire ok allora torniamo all'edutre edu vr 2020 vediamo un po' i lavori del corso quindi vediamo come siamo strutturati quindi il ah non ho ancora segnato il 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 corso di oggi a meno che non sia finito in fondo no allora volevo solo fare un ripilo con il lavoro del corso come è avvenuto fino adesso quindi se vi ricordate abbiamo iniziato a febbraio e abbiamo fatto la primissima la primissima il primissimo incontro è stato semplicemente nel cercare di fare delle foto sferiche a 360 gradi questo perché quella è la prima la cosa più semplice che ci consentiva poi di usare queste foto come sfondi dei skybox per il nostro per la nostra applicazione VR o meno e in quell'occasione avevo chiesto di fare un compito vediamo un po' che era questo di realizzare una foto a 360 gradi e ho visto che su non so se sono su tutti quelle che ho segnato 27 persone hanno fatto il la 360 gradi più o meno tutti sono riusciti a farle alcuni hanno hanno avuto dei problemi perché fatta a mano libera le foto vengono come vengono insomma cioè gli interni in pratica sono impossibili no? perché vengono tutti tutti sbagliati e gli esterni vengono un po' sì un po' no quindi se si vogliono veramente fare quelle foto lì bene bisogna prendersi proprio una fotocamera c'è una telecamera fotocamera esistono però il senso di questo compito era quello di farvi capire che in linea di principio si possono fare anche senza senza spendere nulla no? poi abbiamo fatto cominciato a entrare nel merito di Unity e qui abbiamo un altro compito vediamo un po' il compito aspettate che vi muto perché sento un po' se riesco ok allora quindi del compito questo che serviva semplicemente chiedevo semplicemente di fare una una piccola ambientazione con il cardboard con Unity e poi di spostarla sul cardboard e qui ho già visto che su prima erano 27 che hanno fatto la foto a 360 gradi e invece qui solo più 13 più una che ha fatto adesso hanno fatto l'ambientazione su google cardboard a Lucia a Lucia Bartolotti se adesso poi te lo passerò fra poco quindi tra i presenti c'è qualcuno che non l'ha fatto lo spostamento sul cardboard ah già c'è analisa di pierro che non lo può fare perché avendo il il mac o l'iPhone insomma abbiamo visto ci avevo dedicato un po' di tempo e ero convintissimo che si potesse farlo tant'è che ho fatto anche la promessa analisa gli guarda che si può si può si può però poi dopo mi sono addirittura preso un emulatore un emulatore di iPhone però poi ho visto che a un certo punto chiedeva sì beh per farlo in realtà non è proprio necessarissimo il cardboard nel senso che si può anche fare si può anche fare con uno smartphone poi chiaramente non lo si può vedere in VR ma il cardboard in realtà è qualche cosa che se ordinate su Amazon costa relativamente poco anche se io suggerisco di prendere il Merge Cube che tra l'altro fino all'altro giorno il Merge Cube non c'era su Amazon quindi è un po' se Amazon.it Merge Cube ah no neanche il Merge Cube cioè il Merge Cube è questo ma c'è questo visore in realtà virtuale no neanche questo Merge come si chiama già HealthSet HealthSet vediamo un po' se questo è lui questo qua ah sì adesso è tornato disponibile Merge VR grazie grazie scusate è tornato disponibile è stato fuori commercio per due o tre mesi perché lo cercavo e ci sono due versioni allora io non è che lo dico cioè in realtà è un po' più caro di un cardboard ma io lo consigliavo per due motivi semplici perché era fatto di un tessuto di una plastica molto robusta molto resistente ed è una plastica anche abbastanza diciamo flessibile fluida quindi se cade per terra non si fa assolutamente male e soprattutto vedete che qua c'è una serie di qui in cima c'è una serie di di cosine di apparecchietti che possono essere usati per avvicinare allontanare le lenti interne in maniera estremamente comoda quindi è adattissima insomma per i bambini per la robustezza eccetera e si infila lo smartphone dentro in maniera abbastanza semplice infilando una fessura invece gli altri molti cardboard che ci sono in giro mettere uno smartphone può essere complicato però qualunque altro cardboard che trovate in giro anche da 10 euro va bene però attenzione controllate sempre che sia un cardboard V2 perché la versione V1 o comunque che abbia il touch perché la versione V1 non aveva il touch che è una cosa fondamentale cioè quel poco che si può fare col cardboard si fa con il tastino che permette di muoversi invece il discorso sui 6 pollici è vero nel senso che se avete un cellulare più di 6 pollici anzi io che ce l'ho 6 pollici vi assicuro che ci entra per miracolo devo sempre fare un pochino di sforzo quindi purtroppo tutto il cardboard la cardborderia funziona con cellulari relativamente piccoli almeno rispetto a quelle che stiamo vedendo adesso poi quindi questo era il discorso del cardboard e poi e quindi queste erano le cose che abbiamo fatto il 26 febbraio l'11 marzo invece abbiamo cominciato a cercare di capire come muoverci con lo scripting in C Sharp C Sharp è il linguaggio di scripting di Unity quindi nella prima parte abbiamo visto come effettivamente addomesticare Unity per costruire un progetto per cardboard in questa parte qua abbiamo visto come realizzare il un primissimo script che muove senza neanche cardboard senza niente quindi semplicemente era un un'erezione nella tastiera quindi inserire un cubo e farlo o più di un cubo insomma e mettere uno script che lo fanno muovere anche qua abbiamo visto una moria di compiti adesso la scadenza l'ho spostata un po' in avanti giusto per darvi comunque molta tranquillità possibile in realtà però questo qui dello use cardboard è rimasto fermo il 28 febbraio ma anche se siete in ritardo chi eventualmente non l'avesse fatto può sicuramente farlo questo lavoro invece dell'11 marzo lo possono fare tutti anche chi ha Mac e tra l'altro vi assicuro che infatti è per quello che dicevo anche chi ha Mac o iPhone in realtà impara a usare Unity tranquillamente e quindi questo compito lo può fare tranquillamente quindi lo fa insomma sono degli scriptini elementari ok poi l'8 aprile quindi cominciamo a entrare un po' nelle cose un po' più vicine abbiamo visto come muoversi con il cardboard quindi abbiamo preso un semplice script che consentiva con il tastino del cardboard di avvicinarsi e allontanarsi da verso nella direzione in cui si guardava non so se e questo è anche stato molto interessante secondo me tra l'altro alcuni ah sì ecco in questo caso avevo detto chi di voi avesse avuto dei modelli su Sketchfab poteva usare Sketchfab no? cioè i suoi modelli e per chi invece non sapeva usare Blender e in questo caso ad esempio Daniele che non conosceva Blender si è focalizzato un po' su Sketchfab che è una libreria molto importante di modelli insieme con ah ci sono altre ma Sketchfab c'ha parecchie cose e quindi l'idea era semplicemente quella di fare una scena col cardboard e muoversi all'interno di quella scena comunque ho visto che qualcuno ha pubblicato quindi c'è stato un po' di cose chi tra l'altro non poteva usare il il cardboard in realtà questo compito se vuole ti esprisco l'analisi di Piero se vuole lo può fare lo stesso in locale su Unity perché funziona lì tranquillamente anche anche muovendo con con il mouse nei miei video lo faccio vedere e comunque è sempre interessante se vuole imparare appunto Unity invece il 22 aprile che abbiamo fatto quindi due settimane fa abbiamo visto un po' di cose relative al dunque io ho messo non ho dato compiti perché il compito adesso vedremo adesso quale sarà il compito di questo intero corso però ho fatto vedere un po' di video video vario video vario in cui ah perfetto e se riuscita anche a navigarsi dentro con con le tecniche che ok perfetto e quello è già un buon punto di partenza comunque abbiamo visto alcuni script che consentivano di interagire con il card quindi per interazione intendo la possibilità di cliccare su un oggetto di addirittura abbiamo fatto anche un'interazione non ricordo più dove l'ho messa comunque c'era un un video vediamo un po' altre interazioni con questo mi sembra di averlo messo ah forse l'avevo messo qua sotto ecco magari poi lo ricontrollo e verifico se mancano dei video magari anche se qualcuno di voi mi dà una mano a capire quali materiali mancano in questo classroom è benvenuto perché a volte mi potrei aver lasciato fuori delle cose comunque nel materiale se poi l'ho frugata c'è dell'informativa su ah la playlist era questa questa non è un video solo ma era una playlist perfetto adesso mi ricordo scusate una cosa comunque erano tutti questi video che ho messo in cui insegnavano come inserire il GVR che è quella libreria di Google per fare le varie cose abbiamo visto proprio come interagire quindi cliccando l'oggetto poteva ingrandirsi restringersi eccetera abbiamo visto anche come installare lo sketch ho scritto sketch up in realtà sketch fab giusto importare quindi degli oggetti da sketch fab alcune alcune annotazioni varie per il mesh collider e poi questa cosa interessantissima che è il gaze tra l'altro queste cose sono valide in generale secondo me si potrebbero usare anche sul su oculus anche se ci sono delle piccole variazioni ma su google cardboard l'idea di fare il gaze nel senso che si guarda l'oggetto e quando si guarda si riempie il cerchio è la tecnica diciamo preferita per potersi muovere e soprattutto perché molti di voi cioè alcuni di voi mi hanno detto che avevano dei cardboard che non supportavano il bottone quei famosi cardboard vecchi no? che però molti sono fatti in quel modo lì ok allora andiamo avanti quindi questo era l'interagire col cardboard e poi in effetti non ho ancora messo quindi lo creerò ero convinto di averlo fatto perché non lo trovo ecco la parte invece di oggi in teoria avrebbe dovuto vertere sul sull'inserire un cioè ecco il bottone vedere come si poteva fare a fare un'applicazione in realtà virtuale usando un Oculus Go o un Oculus Quest la mia idea sarebbe stata anche quella allora con l'Oculus Go c'era abbastanza riuscito e il materiale lo potete trovare almeno all'inizio del materiale lo potete trovare su YouTube quindi se andiamo su YouTube e andate quindi sul mio canale andiamo un po' adesso io vado di qua perché lo trovo facilmente e nei video miei qui ci sono i video ultimi che ho fatto ecco allora qui ah ok grazie comunque sei stata veramente tanto quindi ottima ottima cosa grazie qui ho fatto dopo l'incontro che abbiamo fatto il 22 ho fatto un video che potrebbe essere utilissimo per chi di voi ha Go o Quest quindi tra l'altro ne approfitto per farvi una domanda quanti di voi hanno Go oppure Quest Lorena c'è il Go a scuola eccetera il Go eccetera nessuno dei due perfetto comunque almeno tre o quattro ho visto che hanno qualcuno di voi è riuscito a vedere questo video che tra l'altro se volete ve lo metto in chat sempre che riesca a capire dov'è forse da qua crea l'incondivisibile comunque lo metterò poi come materiale della lezione di oggi allora questo primo video insegna a montare SideQuest SideQuest ve lo descrivo sì il problema è questo che il Go quando lo comprate ha un marketplace di cose sue dove ci sono dei giochini delle cose eccetera che tra l'altro credo che si trovino praticamente Oculus quindi se voi andate su Oculus com non so se riesco a entrare di qua ah Ghost eccolo qua ecco voi praticamente avete un'identità Oculus che poi credo che sia la stessa di Facebook perché Oculus è di Facebook quindi lui vi fa entrare con l'identità di Facebook quindi ecco entrate e vedete che quando entrate nel marketplace quindi Oculus.com Experiences e Go vi fa vedere praticamente tutte le cose che sono disponibili per Go e sono delle cose di cui molte sono gratis ma molte sono la facciamo spegniamo qua perché se no non vado avanti molte sono gratis ma alcune sono a pagamento tra l'altro se di queste esperienze in Go e ne ho trovata una che tra l'altro consiglio abbastanza così l'ho comprata da poco ma mi è piaciuta molto che oltretutto visto che non è neanche disponibile né su questa né in altre parti e che dovrebbe costare tipo 4 euro ma è un giochino diciamo fatto per Go molto molto bello molto tenero cioè adatto anche per bambini anche piccoli probabilmente magari supportati e se volete poi vi faccio senza vi caldo vi faccio vedere la presentazione perché così però c'è praticamente c'è tutta una storia inventata praticamente in Africa di una mamma con il bambino cieco che la mamma aiuta il bambino praticamente a salvare l'uovo del del dio serpente e si fa tutto vedete praticamente la mamma voi rappresentate la mamma dite al bambino dove deve andare cosa fare il bambino praticamente e lo aiutate è una cosa molto molto tranquilla comunque a parte questo perché ho fatto vedere questo perché voi siete limitati al marketplace di questa di Go ma l'idea che invece del corso con cui vi sto facendo tutte queste lezioni è quella di creare voi delle cose nuove però Go e Quest non sono progettati per farvi costruire a voi sono progettati per farvi subire farvi comprare delle cose quindi per ovviare a questa a questo problema occorre costruire scaricarsi questo programmino che si chiama SideQuest SideQuest e questo programmino è un'applicazione che una volta installata vi permetterà di collegarvi di connettervi al vostro Go col Go è molto semplice nel senso che basta proprio attaccare la spina che avete c'è la presa che c'è nel Go nel Quest invece bisogna comprarci un cavetto a parte tra l'altro ecco una domanda per GBProf tu i cavetti quanti ne avevi comprati per collegare il Quest mi dicevi che ne avevi passati se ci sei forse non c'è comunque il problema è che sul Quest c'è questa frustrazione che bisogna comprare i cavetti a parte per collegarli e non sempre funzionano una volta trovato tanto qui credo di avere proprio il Quest il Side Side Quest ecco tanto per dirvi il Side Quest ah sì ecco il Side Quest che è questo praticamente vedete che quando quando parte vi fa vedere se c'è un Quest o un Go io adesso ne ho comprato un cavo in questo momento per Quest che è targato proprio Oculus Link spero che di tre metri e spero che funzioni perché è così ma in realtà non è che sia originale deve essere certificato Oculus che vuol dire che Oculus ne ha fatto uno che costa 80 euro e ci sono altri cavi anche non Oculus che vengono dati per funzionanti ma io ne ho preso uno di quelli che erano dati per funzionanti non mi aveva funzionato ad esempio c'è Fab che avevo citato prima Samo che lui c'è un Oculus Quest e lui ne ha ordinato un cavo da 25 26 sterline che saranno sulle nostre più o meno 30 euro e lui gli ha detto che l'ha provato e gli ha funzionato il primo colpo e non è neanche un cavo Oculus e vediamo insomma questa è la cosa comunque la cosa interessantissima di SideQuest è che vi consente soprattutto una volta collegate di cliccare qua e vi fa vedere esattamente quali sono le applicazioni che sono installate sul Go e voi potete installare un'applicazione sul Go semplicemente facendo un trascina dal vostro computer dal PC sul Go o sul Quest quindi io vi consiglio chi di voi ha il Go di seguire questo video che ho fatto che poi tra l'altro è un video relativamente breve ma dovrebbe essere seguibile però se per caso lo seguite tenete conto che ci sono una serie di trucchi da seguire quindi tra le altre cose bisogna iscriversi sull'Oculus cioè bisogna andare su Oculus e iscriversi come sviluppatori che è una cosa un pochino rognosa però c'è un qualche cosa c'è un articolo proprio di Fluido tanto Fluido è un altro personaggino che abbiamo trovato personaggione anzi che abbiamo trovato su Altspace che conosce tecnicamente anche più anzi sicuramente più più tecnico di me e comunque lui fa proprio queste guide anche lui questi tutorial e questo tutorial qua vi spiega come installare effettivamente il cioè uno dei tanti metodi per installare un programma tipo questo tipo il site quest e lo trovate qua quindi lo vediamo quindi entriamo su ecco questo è il suo sito e questa è la sequenza di operazioni da fare che tra l'altro per alcuni di voi magari è anche più comodo vederla scritta anziché vederla su un video e mi spiega come andare sul sito di Oculus registrarvi come organizzazione io l'avevo fatto ma ho registrato tipo edu3d poi dovete andare sul cellulare con cui vi collegate e dovete andare a dirgli quindi andiamo altra impostazione vedete che vi fa tutto il giro dovete abilitare la modalità sviluppatore fatto così poi bisogna scaricare praticamente dei driver per il pc chi ha Mac tra l'altro sembra che non debba fare questo pezzettino qua quindi se vuole farlo dovrebbe funzionare meglio e così via insomma alla fine di questa operazione si può scaricare e si possono scaricare le vostre applicazioni su da Unity verso Go e verso Quest ok sono domande su questa tecnica ah vabbè ma se non hai Mac l'unica differenza anzi la cosa che più o meno hanno tutti è che devono scaricarsi questi driver comunque sia che seguiate questo questo help diciamo di fluido si chiama sia che seguiate il il video che ho fatto io lo spiego abbastanza nel senso che ci hai spiegato tutte praticamente i pezzi quindi qui praticamente faccio vedere come si entra solo che io non faccio vedere la parte in cui si abilita effettivamente però sembra complicato c'è alcune piccole trappole eventualmente Eva se vuoi puoi farti aiutare da Daniele tu l'hai provato il cell quest sì mi sembra si l'hai fatto tutto abbiamo parlato già diverse volte ma credo che sia sia Daniele ma anche Fab sia disponibile eventualmente a dare assistenza perché lui è appassionato ha detto che aiuta ah tra l'altro ecco con Fab con lui con Samo fa anche tutta un'attività insomma di fitness in realtà virtuale che lui è molto interessato proprio a fare attività ginnica e fisica su con col quest soprattutto col quest che si riesce a fare in maniera seria in pratica lui fa proprio box fa una serie di cose e c'è proprio un gruppo che è creato proprio un gruppo per fitness in VR quindi se per caso forse interessati potete iscriversi a quel gruppo in cui fa vedere ci sono diversi programmi gratuiti sì ci sono diversi programmi gratuiti che permettono di fare il fitness comunque la cosa importante è che in questi elenchi dunque dove ce l'avevamo non è perso torniamo indietro negli ultimi video che ho fatto ho fatto ecco qui un esempio che è questo questo qui del del fitness con un casco di testa non ti pare semplice ma ecco una cosa che non vi ho detto è che il quest è vero che tenete sempre il casco in testa ma il quest ha la caratteristica di poter funzionare anche senza controllers quindi semplicemente con le vostre mani non so se tu Eva l'hai già provato il quest c'è un modo per farlo magari farò un video perché è una cosa che è abbastanza emozionante perché potete fare più o meno quello che faceva come si chiama minority report no? che con le mani potete praticamente cliccare i tasti che non ci sono e così via quindi è vero che c'è il è vero che avete un casco qualcosa in testa ma rispetto a molti altri a altre situazioni in realtà è molto più leggero quindi io l'ho provato a fare si possono si fanno veramente si fa abbastanza bene poi io sono un caso particolare nel senso che i visori mi stringono sempre la testa e mi fanno venire un po' di mal di testa sempre però dopo un po' trovo anche dei piccoli trucchi allargando in qualche modo mettendoli per tenere i caschi in modo tale ecco tra l'altro una cosa che volevo chiervi voi chi di voi c'ha il casco il go oppure il quest avete mai avuto problemi di questo tipo di mal di testa che vi stringe che vi fa male ma tu c'hai però l'oculus vero cioè è normale non il pesa vero pesa un po' sì io con l'oculus ho visto l'appannamento era un po' un problema e sul peso ho scoperto che mettendolo in certe combinazioni invece di farlo pesare sulla testa lo faccio pesare sullo zigomi che è una cosa che ho scoperto solo ultimamente è un altro fastidio rispetto a farlo pesare sulla testa però almeno fa cioè stanca gli zigomi ma non la testa che è quella che poi dà fastidio mettendo in un certo modo lui pesa riuscite a farlo pesare proprio sugli zigomi quindi come se fosse ero praticamente degli occhiali un po' pesanti sì sì diciamo che comunque non sono progettati per essere tenuti per più di un'ora diciamo un'ora e mezza insomma quelle cose va bene allora comunque quello che volevo dirvi è che ho iniziato pensando di farvi un corso completo di programmazione Go e per il Go c'è questo video che vedete che vediamo un po' di lanciarlo brevemente allora in questo video io faccio vedere come scaricare un modello da Sketchfab e poi costruire un piccolissimo script vedete questo è uno scriptino che è stato messo che sente il tasto del del Go e quando si clicca su quel tasto praticamente va nella direzione quindi praticamente lo script è lo stesso identico che si usava per il per il cardboard ne ho provati ho provato diverse varianti e tra parentesi per fare questo video interessante per un motivo che io non faccio non scarico nessun package di Oculus quindi è una cosa fatta proprio come si dice nuda cioè praticamente prendo il Unity ci attacco il l'Oculus Go e poi gli dico lo tratto come se fosse un come se fosse un android di fatto sì l'unica l'unica differenza è nella parte in cui vediamo un po' se ci arrivo qua c'è una parte in cui chiede ah sì qui si switch e si va su android quindi era il pezzo in cui passavo ad android poi quando si va sugli XR settings ecco l'unica cosa che bisogna metterci è di andare praticamente su specificare di avere Oculus qua quindi Virtual Reality SDK qui si mette l'Oculus e c'è praticamente tutto un po' un rito per ottenere questo effetto in realtà se voi guardate sì più o meno dovrebbe funzionare ma quando si lavora con Rift e anche col Quest in realtà la cosa che si fa è di scaricare un pacchetto di Oculus in più oltre a questa operazione qua quindi questa operazione va sempre fatta quindi bisogna sempre dirgli che si va su Oculus ma si scarica proprio un pacchetto adesso vi faccio vedere brevementissimamente quello che intendo adesso non volevo fare tutto il giro perché sono tempi lunghi abbastanza biblici ma comunque è giusto per farvi capire si crea praticamente un new si entra in per esempio 2019 2 12 tra tre in questo caso fate attenzione a usare la versione 2019 2 perché passando alla versione 2019 3 cambiano un po' di cosette infatti io la prima volta non mi trovavo però il problema è che da adesso da 2020 in poi quindi tra poco si dovrà lavorare in quel modo lì quindi facciamo prova così faccio solo vedere brevemente il concetto tra l'altro quando si lavora in Unity c'è sempre questi tempi biblici che purtroppo diventano sempre lunghi ogni volta si crea un nuovo progetto bisogna sempre ripetere tutta questa operazione quindi è abbastanza impegnativo quando si entra nel qua si scarica dall'asset store si cerca e qui cercate Oculus integration poi tra l'altro volevo chiedere brevemente anche a GBProf che lui ha sviluppato per Oculus se lui segue questa procedura oppure no comunque si cerca questo Oculus integration ok perfetto perché in realtà per sviluppare su Oculus ci sono almeno 4 o 5 meccanismi diversi e questa è quella raccomandata da Oculus che però secondo me ha qualche difettuccio anche se è la più facile in realtà se quando puoi funzionare comunque quando si scarica e si importa questo asset store e anche qua c'è di nuovo tutto questo tempo micidiale in realtà si tira giù 300 megabyte o 250 300 megabyte di cose di cui si usa in realtà una quantità abbastanza bassa però se notate ci sono quando si scarica l'Oculus integration scarica anche delle cose valide per l'Oculus Go e per l'Oculus Quest per il Gear VR quindi anche per il cardboard dire il vero perché il Gear VR è un altro tipo di visore che assomiglia al cardboard o a metafora cardboard del Go e qui dentro ci sono una serie di cose che servono per fare la scena con Oculus Lift in particolare quindi la teoria principale non è molto dissimile da quella che abbiamo visto per cardboard nel senso che si mette una camera praticamente il concetto è che bisogna sostituire la camera con il rig di camera che vi dà il che vi dà praticamente questo oggetto e poi se non ricordo male lui dà proprio anche c'ha già anche tutti gli script dentro i movimenti quindi conferma il GB prof che una volta messo il rig tu voi entrate direttamente nella scena e vi muovete senza dover scrivere una virgola di script che è una cosa che credo che appreziate esatto io ho fatto già diversi video per il Rift volevo ottenere lo stesso effetto con il Quest o con il Go e non ci sono ancora riuscito ed è questa è la frustrazione anche che mi ha indotto a sospendere un attimo se però qualcuno di voi tu GB prof il Go o il Rift il Quest non ce l'hai vero? ce li hai? ah ok allora senti io ti chiederei magari un attimino di aiuto per il Quest se riesci a trovare un sistema o se tu vedi che a te funziona perché io ho provato da me non mi ha funzionato con delle specifiche versioni di Oculus Integration e di ecco allora facciamo magari poi un piccolo tutorial poi magari me lo comunichi e così andiamo avanti in quella direzione lì insieme perché io l'ultima volta che ho provato a scaricare qualcosa sul Quest quello che ho ottenuto evidentemente non mi è sfuggito qualcosa ha scaricato il programma ma poi lo vedeva sul Quest in 2D quindi mi faceva vedere lo schermo e poi si muoveva nello schermo 2D e questa cosa allora per il Rift altrettanto cioè la tecnica è praticamente identica cioè anzi a me ad esempio che ho sempre provato sul Rift ma ha sempre funzionato senza problemi e c'è quel sistema che di cui comunque ho fatto dei video poi tra l'altro ecco l'avete visto in temporale ma solo per farvi vedere che questo questo pezzettino dell'asset store entra e e sono nel mio canale ma adesso li voglio mettere tutti insieme e li metterò in classroom quindi ve li ho fatto un sacco di video credo ottobre novembre in cui facevo proprio delle cose che beh alcune cose erano fatte senza VR tanto più o meno il concetto era analico e alcune le ho fatte anche per Rift comunque adesso le ripeto il quando si installano queste cose e poi vi chiede tutta questa cosa dice aggiorna restart aggiorna che è un po' un giro dunque sono dovrebbe essere una playlist ma adesso non riesco a farvelo vedere ma vi garantisco che ve lo rimetto in classroom tutti i riferimenti questo è un package e quando si scarica questo lui si scarica una tonnellata di script non è detto che tutti vi vadano bene però ci sono già praticamente almeno per muoversi funziona perfettamente poi ci sono anche i teleport però forse bisogna fare un briciolo di lavoretto in più ma soprattutto ma soprattutto c'ha ad esempio delle cose molto interessanti allora quando l'avete installato vedete che qui c'è Oculus che vi installa questa cartella sotto gli assets ah sì ci sono delle cose che fanno il grab insomma ci sono già delle cose fatte però anche lì bisogna poi capire un attimo in pratica ci sono questi prefabs qua dentro e in questi prefab ci sono ad esempio questo qui credo che sia l'OVR player mi confermi no? sia questo tu che ormai lo conosci a memoria prof in pratica se in una scena che fate gli mettete quindi tradire l'obgetto il piano e poi io di solito faccio questa scena stupida che è semplicemente un cubo ecco qui in questa scena in teoria basta prendere questo VR player lo lascio a prendere perché sta facendo i suoi misterini praticamente l'idea di fondo di questo sistema è che voi prendete dei prefabbricati prefabbricati vuol dire delle cose già fatte ecco praticamente sì quindi fai tu quindi si prende questo VR player si mette nella scena vedete che viene praticamente proprio una cosa simile a quella che abbiamo visto in quel cardboard con già la capsula già pronta e qui bisogna cancellare la camera sì fondamentalmente questo e la cosa interessante è che questo signore qua dentro dovrebbe avere già anche tutti tutte le cose per poter pilotare i controller e tutto sì la camera principale viene cancellata e viene messo questo VR player controller fatto così e l'idea è che già così la scena è navigabile nel senso che una volta messo questo oggetto dentro la vostra scena e la vostra scena può essere una scena di sketchfab oppure una scena importata a voi da blender ricordate che se prendete da blender dovete sempre aggiungere il mesh collider come minimo ecco qua si fa l'add component con mesh collider in realtà in questo caso c'era già perché è il suo però se lo prendete da se lo prendete da blender non c'è quindi voi dovete inserire i vostri mesh collider su tutti gli oggetti che importate da blender gli mettete il rig dentro e poi questa scena sostanzialmente l'idea è che funzioni in tutti i cioè praticamente si fa si scarica si compila si linka si porta su sul go piuttosto che sul quest piuttosto che sul rift e dovrebbe funzionare già di suo no in effetti qualcosina di differenza c'è ma si si può mettere diceva appunto GB Prof ecco GB forse lei ha fatto un mini tutorial di questo tipo che fa vedere come si fa questo giro no se hai voglia di farlo sul quest sì esatto poi magari io ho visto che tu li fai scritti che sono anche molto comodi magari io provo anche a prenderli e provo anche a prendere i tuoi tutorial scritti e provo a farli come video così magari facciamo un facciamo Unity è un prodotto commerciale che è stato costruito da una ditta che ci fa un sacco di soldini sì sì no ma non c'è un problema tanto sono abbastanza chiari e sono però ha avuto la geniale idea di renderlo gratuito per più o meno per tutti quindi è un prodotto che possiamo usare in tanti ok allora come vedete siamo un po' a mezzo come al solito vi lascio un po' a metà dell'opera ma queste operazioni in realtà le facciamo sempre in classe capovolta ah chi sono in quel senso quindi non è che se il corso si interrompe voi smettete di seguirlo ma con la insomma con l'assistenza di tutti si può andare avanti anche aspettate che vi dico Unity Wikipedia che è uno dei modi più Unity Technologies produttore di Unity vediamo chi è il produttore di Unity vediamo dov'è dice Copenhagen fondato nel 2004 a Copenhagen in Danimarca sapete che non lo sapevo che non è nemmeno inglese americano anche se adesso mi sa che poi alla fine sia finito da quelle parti va beh poi volete ah no sede San Francisco adesso la sede San Francisco fondato a Copenhagen ma adesso si trova a San Francisco quindi a tutti gli effetti sono siamo siamo nell'America al solito perché è lì che girano i soldini quindi io adesso eh sì allora io direi questo per stasera avete visto vi ho fatto più che altro una carrellata non vi ho spiegato delle cose concrete ma ho cercato di darvi un po' una visione d'insieme anche di questo Oculus Integration ed è l'idea che sta dietro cioè l'idea è quella di rendere banale praticamente costruire applicazioni in VR in realtà come vedrete poi alla fine qualche trucco qualche trappola ci sarà e quindi non è tutto rose e fiori e poi comunque a un certo punto ci sarà bisogno di mettere degli script che davanti ero convinto di averlo fatto forse l'ho fatto nel class non sbagliato ho fatto proprio una playlist in cui ho fatto vedere anche come fare per fare in modo tale che non so un video venisse lanciato quando voi vi avvicinate cosa che sicuramente il GB Prof sa fare no? esatto ecco quello lo script di avvicinamento ad esempio è molto utile perché se voi costruite una scena in cui quando si arriva vicino un oggetto volete che quell'oggetto parli oppure che visualizzi delle cose come in questo caso proprio c'è uno schermo in cui si vedono delle cose interessanti io lì ho fatto proprio dei video perché seguivo non mi ricordo il nome comunque Pellegrini mi sembra che non so se c'è presente qua che era un insegnante delle superiori che aveva fatto proprio dei musei virtuali con i suoi allievi e le avevo dato una mano proprio a fare questo genere a far scattare queste cose con l'Oculus Rift quindi l'avevo proprio visto in diretta insomma come si fanno queste cose e la resa ecco tra l'altro giusto per dirvi anche lì quella classe aveva fatto questo museo virtuale solo che pesava mi sembra sugli 8-9 giga byte di asset però quando me l'ha data ho provato a vedere che cosa c'erano tutti quei giga ed erano degli assets prelevati in giro Gianfranco fa delle cose spettacolari no io stavo parlando di queste di queste cose che hanno fatto gli allievi che avevano preso un sacco di cosette eh vedi parla racconta avevano preso tipo anche delle sedie o dei divani o delle lampade ma ognuno di queste cose aveva una quantità di pesava tantissimo praticamente quindi probabilmente se fossero riusciti a farli loro se fossero riusciti a farli loro in blender avrebbero il peso totale sarebbe stato molto molto più più piccolo comunque come dicevo e beh sì perché se prendono una sedia e pesa 300 mega forse si può fare più piccolo oppure un divano da 300 mega mi sembrava tanto poi sicuramente probabilmente a loro gli piaceva perché aveva un effetto iperrealistico ma abbiamo visto che fare le cose iperrealistiche costa al momento veramente tanto quindi io se posso cerco di spingervi a fare le cose non iperrealistiche per cercare di risparmiare spazio insomma evitare insomma che un museo comunque appunto come avete visto GB Prof che è Gianfranco ha ha un'esperienza che credo che in alcune a parte gli script perché negli script probabilmente lui va va un po' a naso insomma ricercando in giro quello che trova esatto facendo copia e incolla ho sempre detto che gli script il C Sharp in particolare è un linguaggio che per riuscire a impararlo ci vanno degli anni come Java quindi non è che si possa improvvisare scripter però in qualche modo andando far muovere gli oggetti cliccando sopra in che senso far muovere gli oggetti? muovere nel senso fare un'animazione dici? sull'animazione GB Prof Gianfranco ha un'esperienza si possono fare se si possono scriptare su Second Life a maggior ragione si possono fare e diciamo che Unity ha un linguaggio di scripting fra i più completi che esistono quindi si può fare molto di più in Unity di quello che si fa in Second Life o in OpenSIM e come dicevo su molte di queste cose Gianfranco ha molta più esperienza di me perché proprio si è messo ha fatto e ha fatto ecco arrivare ai livelli di Gianfranco probabilmente no però diciamo molte delle cose molte delle cose che lui fa si basano su dei concetti abbastanza semplice quindi magari cerchiamo di infatti no ma Gianfranco comunque ha già fatto degli sforzi notevoli ultimamente per fare dei 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 piccoli tutorial infatti vorrei poi raccogliere e sistemare insomma in modo tale soprattutto ha fatto anche una raccolta di script che possono essere utili a tutti ora riassumendo allora spendiamo un momento per hubs nelle prossime uno o due mesi nel frattempo comunque sotterraneamente magari andiamo avanti con queste attività diciamo di condivisione sul classroom e o sul sul gruppo sul gruppo facebook e poi quando riprenderemo spero che ci saranno anche del nuovo sistema che sperando che sia più semplice di quello attuale per gestire sia il cardboard che forse anche lo unity magari vediamo se usare quello la teoria dovrebbe essere anche più semplice e l'ideale è che per fine la fine di questo corso voi siate in grado di produrre semplicemente una navigazione che è sempre quello che vi chiedo in un ambiente che avete creato voi più o meno quello che ha fatto Gianfranco e che ha fatto gli altri il corso hubs comunque sarà un altro classroom quindi se non vi siete se siete interessati dovete iscrivervi e poi probabilmente anche quando riprendiamo questo corso di ed uvr faremo un altro classroom separato per la versione 2 insomma in modo tale che questo magari lo rifinisco con per quello di hubs sì c'è già il codice l'avevo pubblicato vediamo un po' se vediamo hubs sì certo può iscriversi e dunque vediamo allora questo è edu.br e poi edu.hubs questo sono iscritte già 18 persone prendiamo il codice che è questo non riesco non riesco mai a copiarlo in maniera umana il coso del coso del coso ok nel gruppo comunque teniamoci informati se poi qualcuno mi dà una mano a sistemare il materiale i miei video o magari anche qualche video che manca comunque vi prometto che cercherò di inserire quello che pensavo di aver già fatto ma ho visto che non c'è e quindi ve lo comunicherò nei prossimi giorni per stasera direi che è finito se non avete particolari domande avete qualcosa in questi ultimi pochi minuti siamo in tre siamo ancora in tantini quindi vi annoiate spero di no beh allora se non vedo che nessuno chiede in classroom magari ascolta ti metto poi come docente che vuol dire solo che la possibilità di inserire del materiale sì sì beh vediamo magari ne parliamo Gianfranco perché magari se sono pesanti magari li mettiamo da qualche altra parte troviamo un posto in cui mettere per esempio possiamo usare anche il tuo il server tuo no e poi mettere un link alle cose che hai fatto in modo tale che la gente le possa trovare ma che non pesino dentro classroom e con questo direi che io sospendo la la registrazione e ci sentiamo fra due settimane con il corso di hubs e comunque in tutti gli incontri che vi ho elencato prima buonanotte a tutti che